Define Banking, podcast ufficiale di Azienda Banca, a cura di Alberto Grisoni. Benvenuti a questo nuovo episodio di Define Banking Next, la serie di podcast sulla banca del futuro che Azienda Banca sviluppa insieme a CRIF. Oggi parliamo di sostenibilità e tematiche ISG. Dopo l'emergenza Covid stiamo entrando in quello che chiamiamo new normal, torniamo ad abitudini e ritmi che sembrano quelli della normalità ma che in realtà non possono esserlo perché l'esperienza della pandemia ha cambiato il nostro modo di vedere le cose. Anche la crisi climatica e le catastrofi degli ultimi anni hanno mostrato la fragilità dei paradigmi economici della nostra vecchia normalità. Ne parliamo con Fabrizio Arboresi, signor director di CRIF. Fabrizio, bentornato nel tuo caso a Define Banking. Ciao Alberto e ciao a tutti. Allora partiamo dalla grande attenzione, complice anche ovviamente il PNRR e i piani europei, per una ripresa economica orientata alla sostenibilità in primis ambientale e per il ruolo che il credito deve avere per guidare la nostra economia in questa direzione. Come CRIF quali trend state osservando sul mercato? Per quanto riguarda le famiglie italiane, secondo gli ultimi aggiornamenti del barometro CRIF, le richieste di prestiti nei primi nove mesi dell'anno crescono, crescono del 20% sul 2020. Il gap rispetto ai volumi pre-Covid oramai è minimo. Per Mutio e Surroghe invece nel terzo trimestre si registra un calo tecnico rispetto al corrispondente periodo del 2020, però i volumi superano quelli pre-Covid del 15% e cresce anche l'importo medio che viene richiesto, sono 140 mila euro medi a settembre e questo è tra i più elevati di sempre. Segnali positivi vengono anche dalle imprese. Sebbene i conti economici di molte imprese non abbiano ancora segnato un saldo positivo dopo il forte shock pandemico, gli scambi commerciali sono positivi, più 34% anno su anno a marzo, così come anche torna ad aumentare la puntualità di pagamento delle fatture, un miglioramento di 1,8 punti percentuali. Quindi in questo quadro di ripresa inizia a farsi strada con decisione il nuovo paradigma ISG, nello stile di vita e nella produzione, quindi sia per famiglie che sulle imprese. Un paio di numeri. Per un italiano su quattro è prioritario promuovere azioni per combattere il cambiamento climatico e per quanto riguarda le imprese, secondo una ricerca Nomisma di giugno 2021 sulle nuove esigenze delle PMI, sei imprese su dieci ritengono che la sostenibilità abbia un ruolo centrale nel proprio piano di sviluppo. Con questi presupposti le banche hanno l'opportunità di costruire un nuovo dialogo per costruire un futuro sostenibile e green, un dialogo che non si fermi a messaggi di facciata. Anche alla luce di questo interesse di consumatori, famiglie e imprese per la transizione ecologica, che cosa possono fare le banche nel concreto per accelerare questa transizione, visto il forte interesse anche del sistema paese per il PNRR? Insomma, come si può cogliere questa opportunità integrando i fattori ISG nel proprio modo di operare e che cosa sta facendo CRIF in questo senso? Sì, per garantire la transizione economica verso un modello carbon neutral servono prodotti green innanzitutto. In passato i player finanziari hanno concentrato molto la loro attenzione, soprattutto lato investimenti, quindi sui cosiddetti green bond. Ora devono avviare un nuovo percorso. I player finanziari chiedono supporto nella definizione di una strategia di sostenibilità, chiedono supporto nello sviluppo di prodotti e servizi legati a obiettivi di sostenibilità, nella gestione dei rischi finanziari che derivano dal cambiamento climatico e dall'inquinamento e oltre a questo devono iniziare a misurare gli impatti ambientali delle azioni di famiglie e imprese al fine di premiare quelle iniziative sostenibili che accelerano effettivamente la transizione green. Come CRIF percepiamo la grande responsabilità di questi obiettivi e lavoriamo di continuo su questi temi. Tra l'altro sui 222 miliardi di euro del PNRR ben 68,6 sono destinati alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica. L'obiettivo di fondo è migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva. Insomma per l'economia italiana è una grande opportunità. Dobbiamo anche considerare la spinta regolamentare verso la tutela dei fattori ISG. Questo rende fondamentale il trattamento delle informazioni granulari dei tre fattori E, S e G. L'inclusione di questi fattori nei modelli di business è una realtà sostanziale e la regolamentazione della tassonomia europea lo sta dimostrando chiaramente. Noi chiaramente ci concentriamo molto sulle banche, un po' per la natura della nostra impresa, però questa considerazione è valida per tutte le imprese. La rivoluzione green non è solo un tema finanziario. Certo, tutti gli attori coinvolti nella filiera economica ne saranno toccati, anche se sicuramente si sta delineando un quadro non omogeneo nella sua applicazione. Noi pensiamo sia necessario tradurre questi fattori ISG in concrete soluzioni a supporto dei player finanziari grazie a un ricco patrimonio informativo e di analytics. Crediamo fortemente che la rivoluzione green si debba basare su una cultura della sostenibilità e sulla consapevolezza dell'importanza dei fattori ISG, ma il tutto supportato da servizi data-driven. Per cogliere tutte le opportunità del Green Deal europeo abbiamo sviluppato un patrimonio informativo di alta qualità organizzato, aggiornato, con indicatori basati su metodologie robuste e in linea con la tassonomia europea. Questi dati non sono un mondo a parte, ma sono integrati con le informazioni tradizionali per una crescita sostenibile delle aziende e dei player finanziari in cui vengano incluse anche le dimensioni di rischio ISG. Per questo CRIF ha messo a punto lo score ISG, che sintetizza il livello di adeguatezza di un'impresa in termini di fattori ISG. A proposito di consumatori, molte neobanche in Italia e anche all'estero hanno delle funzionalità che permette ai clienti di conoscere l'impronta carbonica dei loro consumi e dei loro risparmi. Possiamo immaginare un futuro in cui ognuno di noi potrebbe richiedere una sorta di green rating personale? Sì, l'importanza dei fattori ISG non è limitata alle sole imprese e banche, ma va proprio anche sulle persone. Il Carbon Footprint Score, partendo da dati transazionali relativi al conto corrente e alle carte, stima proprio un punteggio sulle emissioni di CO2 dei nostri consumi. Più che un reti personale, in realtà questi sistemi evoluti suggeriscono alle persone dei comportamenti e prodotti sostenibili, premiando e incentivando chi si comporta in modo più sostenibile. Anche rivelando quali prodotti inquinano di più, potrebbero così anche guidare le preferenze di consumo verso le imprese più responsabili. E torniamo di fatto alle imprese e alla loro transizione green. Come si può valutare la sostenibilità di una controparte impresa per finanziarne la trasformazione? Lo studio di CRIF sulle imprese controvento ha osservato che il 47% delle società appartiene a settori elegibili rispetto alla tassonomia UE. Allo stesso tempo il 60% delle società ha un'adeguatezza ISG medio-bassa, ma ha ampi spazi di investimento in termini di sostenibilità. Quindi per ampliare questi investimenti sostenibili bisognerà integrare i fattori ISG nella valutazione del rischio. Le imprese sono pronte in questo. Il 43% vorrebbe ricevere una certificazione sulla valutazione di sostenibilità ambientale e l'80% vede la valutazione ISG della controparte come un aspetto fondamentale per l'analisi corretta del merito di credito. Come abbiamo anticipato prima, sono le banche a fare più fatica ad aggiornarsi, ma i fattori ISG potrebbero davvero fare la differenza sul loro operato. I green loans possono favorire la transizione sostenibile in più dell'80% delle società di capitali italiane e il rating ISG consente di affinare la distribuzione di rating fino all'80% dei casi. In conclusione, quale approccio e quale impegno CRIF sta portando avanti per vincere queste sfide future della transizione verde? CRIF ha sempre avuto una forte attenzione al tema della sostenibilità perché crediamo che sia un fattore chiave per la creazione di valore futuro. Per questo ci impegniamo a supportare attivamente i clienti in questa rivoluzione. La nostra attività e impegno partono da lontano. Dal 2008 abbiamo iniziato a costruire partnership con istituzioni europee e con realtà nazionali attive nella creazione di economie sostenibili. Abbiamo contribuito all'iniziativa promossa dall'Unione Europea per misurare la correlazione tra assorbimento energetico degli immobili e rischio di credito. Recentemente poi l'attenzione si è focalizzata sui fattori ISG che abbiamo integrato nella nostra metodologia di rating. Abbiamo poi assunto il ruolo di PMO all'interno della commissione IFIRM per l'elaborazione del position paper sull'integrazione dei fattori ISG nella valutazione del rischio di credito. In sintesi, in conclusione, le leve su cui stiamo intensamente lavorando sono tre. Lo score ISG, questo è il primo strumento in grado di sintetizzare il livello di adeguatezza di una PMI ai fattori ISG. Il secondo elemento chiave sono i questionari qualitativi che integrano la valutazione statistica automatica e su questo mettiamo a disposizione una piattaforma di questionari che abbiamo sviluppato a livello globale. In questo senso va menzionata anche la partecipazione di CRIFA all'iniziativa Transparence, che è promossa dalla Commissione Europea ed è guidata dall'Università Ca' Foscari di Venezia che ha l'obiettivo di raccogliere informazioni sull'efficienza energetica delle PMI. Terzo aspetto, lavoriamo su analytics avanzati con l'obiettivo di fornire indicatori basati su metodologie che integrino i fattori ISG. Fabrizio, grazie mille per essere stato con noi oggi. Grazie a te Alberto e un caro saluto a tutti.